E' bellissimo questo sapere, vedere che un cristiano è con la corona del rosario fra le mani, che sta in contatto con Dio attraverso la Vergine Maria. E siamo certi che non ci cerca se noi siamo nella preghiera, se siamo occupati anche con la mente. Padre Pio dava degli insegnamenti anche di pregare con delle giaculatorie, in modo tale che tu eri sempre, la tua mente, il tuo cuore era rivolto sempre verso il Signore, in modo tale che quella casa del tuo cuore sia ricolma di Dio. Allora, fratelli e sorelle, termino chiedendo l'intercessione della Madonna, l'intercessione di San Pio, che ci aiutino ad essere liberati da questo male, dal maligno, da queste catene che ci tengono legati con l'esgoismo, con il peccato, con la tiepidezza, con allontanarci da Dio. Chiediamo alla Madonna che ci faccia sempre stare accanto a Gesù. Diceva un personaggio famoso, a me mi basta solamente un posto ai piedi di Gesù crocifisso.